Il proficolato è esploso su internet e da 10 ho iniziato a prendere la canzone perché tutti i proventi andranno per beneficenza alle famiglie perché io abito a via Mattia Battistini, ultimamente rimasta e volevo dire che non voglio, sono comico, non voglio ammorbare io l'ho ringraziata a Smart che lì per lì ho mandato l'accidente perché mi ha inchiodato poi mi è passata la macchina dei fenomeni, no dei fenomeni meglio perché poi dici il comico dove prendi i battuti ma basta sentirte le giornali, ieri il padre che stava a macchina ha detto non mi costavamo rubando, è ammazzato due, dicevamo, ha detto macchina era regolare vabbè non c'erano documenti, non c'era la patente, non c'era il bollo, non c'era la sicurezza non c'era la regolare, non c'era la benzina, non c'era la regolare, non c'era la faccuna cioè, chi ci fa il comico, ma ragazzi, io ce l'ho pure con voi poi fate tanta radio, si parla di Roma, di Lazio, se è romanista è? tu sei da Lazio, brava, in questo caso signora, questa è Roma, se parla di Roma in Lazio tutti ieri, ci fregano i sordi, ovviamo al culo, ho sentito un mio amico che fa radio e io ho tanti amici naziali, se non ci mettono un Champions in 50.000 per la piazza, ragazzi ci sono problemi più gravi, andiamo in 50.000 in piazza per altri problemi che sono molto vuoto, più bravi, fanno massacrare dalla città e noi giriamo sempre la testa all'altra parte, i zingari sono usciti fuori, domani mi mettono fuori anche quell'altro e io sotto casa mia non ho il diritto di attraversare la strada, penso che sia più importante per il calcio e per tutte le cose brutte che succedono su questa città, che io amo di ogni altra cosa e io ho detto, che dico, saccarlo, no dimorre niente, abbiamo altri 10 premi, se erano, si, infatti ve ne potete andare ma scherzo, salutiamo i gilessari, almeno se erano, grazie, spero aver parlato anche del volo, per qua c'è la prima cosa che mi portava, più frutti e che esiste, a sto punto stramatizziamo se Luca, Luca si chiama, no? Luca, certo, Luca, non chiede, che sono te, si chiama, non godioso, Luca, vabbè, come è, Luca, no, diceva l'ultima fase dei selfie, questo però se ne d'accordo con me, c'è gente che si è fatta ai selfie con i morti, ragazzi, che gli dice, non te muore, è morto che sei muore, la gente sforminata, per cui è una parodia, se c'è tempo andatevi a vedere il video, la canzone io ho messo tanta passione e amore, la cantiamo tutti insieme, chi non la fa, non tromba fino al 2026, vai con la selfie con, inizia con il coro da stare, per cui i ragazzi prima che hanno intonato il coro potrebbero essere incentivati a farlo, pronti?